I carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 36enne residente ad Agropoli. Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate dai carabinieri di Castellabate a seguito di alcune denunce della vittima che hanno consentito di raccogliere importanti elementi probatori in ordine a pregressi, maltrattamenti in famiglia ed episodi di violenza, nonché di minacce telefoniche da parte dell'arrestato nei confronti dell'ex convivente. Il destinatario della misura cautelare, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Vallo della Lucania a disposizione dell'autorità giudiziaria.